Oggi vi regalo una margherita, sì, ma disegnata con la penna. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video di disegni a penna. Oggi per voi ho pensato ad un fiore, semplice da fare ma bellissimo come effetto finale, arricchito con un fondo acquerellato che darà al tutto un ensemble di artisti con molto molto spinto. Prima di passare al tutorial vero e proprio ho da chiedervi un favore. Per favore condividete i video di Arte per te sulle vostre pagine Facebook per aiutare il canale ad essere e rimanere sempre visibile e aiutarmi a diffondere i contenuti artistici sul web e su Facebook. Quindi grazie a chi lo farà ve ne sarò sinceramente grata. Venitemi a trovare anche su Instagram, cercate Arte per te perché lì troverete tutte le anteprime dei video e troverete anche tante altre sfaccettature della mia vita personale ed artistica in forma di foto. In più mi serve il vostro aiuto perché voglio arrivare alla soglia dei 10.000 per poter pubblicare il link dei video sotto alle foto di cui ne parlo. Quindi è veramente un aiuto fattivo per un miglioramento dei canali, del canale e dei miei social. Quindi grazie, se verrete a trovarmi anche di là sarete i benvenuti come sempre. Adesso basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare una splendida margherita a penna. Allora, le protagoniste, le penne. Io ho qui due staedler della serie Pigment Liner. Ho una 01 e a contrasto una 07, quindi una a punta più spessa e una a punta meno spessa. Le penne esistono di diversificati brand, sono quasi tutti ottimi, anche quelli a basso costo. E vi segnalo anche il fatto che possono avere diversificate colorazioni. Qui, per intenderci, vi faccio vedere due della Faber-Castell, una color seppia e uno color sanguigna. Ma ci sono anche colorate, la Stabilo per esempio fa tutta la gamma colorata. Sono tutte ottime e tutte da provare e sperimentare. Poi una matita leggera, io qui ho una 01B. Poi una gomma, dei pennelli per acquerello. Io mi avvarrò della Tintoretto, questi pennelli mi sono stati omaggiati dalla Tintoretto e vi ho fatto vedere la loro performance in questi due video. E quindi, visti questi due video, capirete che non li uso perché mi sono stati regalati, ma li uso perché sono dei pennelli straordinari. Sia la serie Vaio Kazan, splendida per gli acquerellisti e non solo, che è la serie Sintetico Nettuno, splendida per le tecniche pittoriche ad ampio raggio. Sono due serie di pennelli sintetici a basso costo, di ottima, ottima, ottima qualità. A basso costo, paragonandoli con le setole di Vaio originali o di Martora originali. Ricordiamoci che sono sempre pennelli di altissima qualità, di un'azienda italiana, ergo non cinese, che fa pennelli, che produce pennelli top di gamma. Quindi sono dei pennelli comunque molto, molto preziosi, seppur sintetici. Come acquerelli userò i miei godè della Ferrario, ottimi godè con cui mi trovo benissimo oramai da anni. Poi come carta ho scelto della Fabriano il blocco per artisti al 50% cotone, una bellissima, questa pagina è già scritta, ovviamente useremo una pagina pulita, una bellissima tonalità crema, molto molto fine, acqua. E alla fine ci servirà anche un compasso, qui vi faccio vedere una chicca, un cimelio di famiglia. Questo era il compasso di mio nonno, che fu di mio padre e che alla fine è diventato mio. Quindi un bel compasso ricco di storia. Quindi cominciamo subito. Come prima cosa divido il foglio a metà, perché tutto è troppo per la composizione, così che possa usare un foglio per due cose differenti. Quindi decido il centro della mia composizione, che appunto deve essere il centro del rettangolo che ho ricavato, e inizio ad impostare il mio fiore partendo proprio dal gambo. Farò un fiore leggermente più storto e un fiore che scende dritto, perché voglio che i due gambi a un certo punto si incontrino. Così, seguendo la linea ideale del gambo e lasciando la distanza anche per i petali, faccio la parte del polline della mia margherita. Ne segno quantomeno la porzione occupata. Quindi comincio a fare la corolla del fiore, e facendo attenzione che mantenga sempre una forma a semicerchio, perché essendo la margherita tonda, la porzione che se ne vede deve comunque seguire la curva dell'andamento della margherita. Quindi parto dal petalo centrale, e poi via via aggancio altri petali, facendo attenzione a fare la curva della parte più vicina al polline, e poi a far sì che tutti i petali siano un pochettino sovrapposti l'uno all'altro. Una volta che siamo soddisfatti delle proporzioni del fiore, come vedete ho avuto dei ripensamenti anche sulla grandezza della corolla, sulla lunghezza dei petali, è normale, perché naturalmente stiamo creando qualcosa. Cominciamo anche a creare il secondo fiorellino. Quindi anche qui una cupolina, e anche qui andiamo con l'attacco dei petali. Adesso le foglie che faccio partire dal gambo. La mia composizione è fatta. Adesso tra le due penne prendo la 01, e ripasso tutto quello che ho fatto, definendo in maniera certa tutti i miei spazi. Oramai ho visto cosa voglio disegnare, quindi adesso sono capace di fissarlo con penna. Mano abbastanza tremula, in questo primo passaggio, non una mano definita. Questo ci darà la possibilità di sbagliare. Allargo lo stelo e lo tiro giù. Come vedete ho cambiato idea, il fiorellino lo faccio davanti anziché dietro lo stelo. Tiro giù anche le linee dello stelo piccolo, quindi ripasso anche le foglie. disegno un cerchio con il mio super compasso, che iscriva quasi tutta la composizione, dovrà rimanere fuori solamente un pezzetto di gambo. Ovviamente non bucate il foglio, quindi poggiate appena l'ago del compasso, e soprattutto non marcate troppo il passaggio della parte con la mina. Adesso prendiamo la penna 07 e facciamo una cosa molto importante. Creiamo dei punti di luce all'interno della parte centrale della margherita. Quindi facciamo delle palline ed iscriviamole così all'interno dell'inchiostro di contorno. E adesso, altra cosa molto importante da fare, colmiamo i vuoti che ci sono tra un petale e un altro con la 05. Quindi definiamo proprio i margini di attaccatura e di vuoto dei petali. A questo punto ripassiamo con la 05 i margini. State sempre attenti al margine portante. Il margine portante è quello che sovrasta l'altro petalo. E adesso il lavoro che renderà bello, si spera, tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Cioè il lavoro di minuzia. L'aggiungere una serie di venature che renda delicato tutto quello che abbiamo fatto. Allora, partendo dal centro, innanzitutto congiungiamoci lì dove c'è una parte rientrante. fate in modo che la parte centrale del petalo arrivi e quindi allargate e fatelo proprio come se partisse. Nei petali più in ombra metto più striscioline e le metto un po' leggermente trasversali e un po' a seguire il verso del petalo. Quindi faccio un tratteggio incrociato. arricchisco di pieghe i miei petali. Vado un po' a gusto un po' a fantasia. Attenti a non appesantire troppo. Ok, sulla foglia facciamo un lavoro un po' più particolare. Cominciamo a rigare in maniera più convinta vicino l'apice della foglia. E anche qui dove c'è la parte finale. a questo punto il disegno è finito. Potreste anche qua sotto mettere il nome della specie del fiore e appunto basta finire così. Io invece voglio fare un fondo acquerellato. Quindi con la gomma attutisco la grafite. Voi non la vedrete forse o forse sì io invece continuerò a vederla spero. Accertatevi sempre prima dell'acquisto che la penna che avete usato sia una penna che regge l'acqua perché se no si spande tutta al momento dell'immissione. Prepariamo delle pozzangherine. Voglio fare il fondo con i colori che caratterizzano questo genere di margherita. Questa margherita ha sicuramente il verde del gambo sicuramente il giallo della parte centrale. Per fare questo lavoro uso un tintoretto sintetico Vaio Kazan 02 se volete vedere la recensione la trovate lì dove ci sono le schede informative. Inserisco del rosso che col giallo diventerà arancio e vi facizzerà tutta la composizione ed è il complementare del verde quindi ci va del nero e del bruno per intensificare i toni. Adesso con molta attenzione bagniamo il fondo all'interno del cerchio dico con molta attenzione perché non dovete uscire dalla circonferenza tracciata. ok già così con questa ombreggiatura è bello adesso invece immettiamo il colore ok facciamo asciugare alla fine del lavoro firmiamo come vedete io ne sto facendo varie copie più delicati meno delicati per scegliere quello che mi piace di più firmiamo dove volete io firmo con la penna 05 qui e questo lavoro è pronto per essere regalato a chi volete voi ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo a chi Visto che bella è la nostra Margherita, è o non è una vera e propria opera d'arte, una mini opera d'arte, bellissima come regalo, come bomboniera, come biglietto di invito, bellissima e coniugabile in diversificate sfaccettature, potete farla in bianco e nero, come potete farla col fondo acquerellato, così come potrete sbizzarrirvi con le penne colorate, scegliete voi qual è la metodologia migliore, scegliete voi qual è la posa della Margherita che più vi interessa, dopodiché sbizzarrite e sbrigliate la mano e create qualcosa di fantastico, come voi sono certa saprete fare, non vi intimidite, è più difficile pensarla che non disegnarla, quindi provate, provate, provate e poi mi direte, ombretta avevi ragione, basta cianciare, vi aspetto anche sui miei altri canali, ombrette 2,1k ma soprattutto vi aspetto sempre qui per il prossimo video, da ombretta e da arte per te è tutto, lasciami un pollice in su e ci vediamo la prossima volta, ciao!